Il 24 giugno 1985 Francesco Cossiga viene eletto Presidente della Repubblica, ha 57 anni, è il più giovane inquilino del Quirinale ed è il primo Presidente ad essere eletto al primo scrutinio, con una maggioranza quasi bulgara. Cossiga raggiunge la Presidenza della Repubblica dopo aver percorso tutte le tappe della carriera politica, sottosegretario, Ministro degli Interni durante gli anni di Piombo, Presidente del Consiglio e infine Presidente della Repubblica. La sua Presidenza della Repubblica si divide in due periodi, la prima sostanzialmente tranquilla, nell'alveo della grammatica istituzionale. Con la caduta del muro di Berlino lo stile di Cossiga cambia, inizia la stagione del picconatore. Cossiga, convinto che la caduta del muro di Berlino abbia cambiato le regole della politica e sia destinata a rivoluzionare anche il sistema dei partiti, inizia una serie di interventi assolutamente originali, provocatori, attaccando anche in prima persona esponenti politici di primissimo piano. Una Presidenza così non avrebbe potuto che concludersi anche in modo particolare e così avvenne due mesi prima della conclusione del suo settennato, con un discorso alla TV, Cossiga rassegna le sue dimensioni. È il 25 aprile, una data non scelta a caso.